Fabrizio Annascoli si riparte per questa nuova avventura Pescara Calcio a 5 nella nuova stagione con il tricolore cucito sul petto. Sì, è sicuramente un onore per noi portare il tricolore soprattutto nella città di Pescara perché essendo noi pescaresi puro sangue quindi è un onore portarlo, è stata sicuramente un'emozione bellissima. Sarete impegnati su più fronti, il campionato e poi c'è la Coppa Europa. C'è il campionato, c'è la Supercoppa, c'è la Winter Cup che si rifarà anche quest'anno, è una notizia nuova. Ci sono gli europei, ci sono le qualificazioni mondiali e nazionali, noi abbiamo parecchi nazionali tra argentini e italiani quindi sicuramente sarà una stagione piena di impegni per i nostri giocatori e per noi società. Avete lavorato tanto in estate per rinforzare ulteriormente questa squadra? Sì, abbiamo lavorato per rinforzarla, per cercare di essere al pari degli altri in campionato italiano e soprattutto di cercare di migliorare le ultime prestazioni fatte dalle compagini italiane nella UEFA perché sono sempre uscite fuori al primo turno. A distanza di qualche anno della presenza di tre formazioni abruzzesi nella massima serie è un motivo in più di interesse anche per i tifosi? Sì, è un motivo di interesse e colgo l'occasione proprio per di nuovo fare le mie congratulazioni al Monte Silvano che finalmente è tornato dove merita perché secondo me è una delle società d'Italia che ha più lustro nel calcio a 5 quindi è un motivo d'orgoglio ma si è già visto nell'amichevole che abbiamo fatto amichevole in tutto sia con i dirigenti del Monte Silvano che con la squadra dove c'erano già 300 persone dentro il palazzetto per una semplice amichevole quindi già quello fa capire che voglia di calcio a 5 alla città di Pescara è tutto l'Abruzzo. Presidente Iannascoli se potesse scegliere Scudetto o Coppa cosa sceglierebbe? Tutte e due. Presidente Iannascoli